La buona notizia è che è andato tutto bene. La verità è che vorrei non mi sarei un bel ragazzo come tanti. Grazie molte, dottore. Il dottor Snow l'aveva già fatto quasi tutto. Io ho dato il tuo quotidiano. Sì. E Jackson ha detto che a James non serviranno i grossi interventi. Davvero? Jackson te l'ha detto? E Jackson aveva le mani sulle tette dicendolo? Di che cosa fai? Mi prenderi in giro perché andavo con Caret. Mi hai dato della proietta. Dicevi che non voglio essere come mia e ora vai a letto col capo. Come lo sai? Ma non lo sapevo. Adesso lo so. Allora, devi imparare a farvi rispettare. Lo so che non sarà facile, ma con tua madre mi prenderò i capelli anch'io. Ti sembra il caso di andare sotto al mio posto? Adesso che cosa faremo, smetterà di farlo, come ho permesso io, di mangiare i carboidrati. Devi decidere e non è come smettere di mangiare i carboidrati. Questo è un disturbo mentale. Ma datela la zoccola come qua. Guardate. Si stanca? Dormi, dormi dai. Scusate, ora c'è anche il mio cuscino, no? C'è che ci sei, così. Ok. Ok. Il mio cuscino, no? Eh. Non mi manchi. Non mi manchi.